e nel dubbio. Vorrei dire una cosa a proposito del bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno e del sapere quando dire basta. La linea che divide il vuoto dal pieno è un barometro dei nostri bisogni e dei nostri desideri. Decidiamo noi dov'è quella linea. Tutto dipende anche da cosa ci stanno versando. A volte ne vogliamo soltanto un sorso. Altre volte non è mai abbastanza. Il bicchiere è senza fondo. E vogliamo averne di più.